Ma quello che sta accadendo un po' dovunque, insomma, mi pare che si crea un clima pericoloso, io credo che se c'è da rivedere qualcosa sui meccanismi di riscossione si possa rivedere, si debba rivedere, qualcosa è già stato rivisto per la verità, però si possono concedere tempi più dilazionati, più lunghi, va benissimo, se si può in qualche modo contenere gli interessi di mora se sono eccessivi, il Parlamento deve discutere e deve intervenire, però le tasse vanno pagate, non c'è via d'uscita a questo, chi dice il contrario si colloca su un piano eversivo, peggio ancora è chi mette le bombe, chi mette le bombe anche se sono molotov non è altro che il terrorismo a bassa intensità e lo Stato, la magistratura, le forze dell'ordine devono indagare e punire chi compre questi atti. Per quel che ci riguarda noi continueremo a servirci di Equitalia perché pensiamo che i nostri cespiti vanno recuperati, che ci sono cittadini che hanno pagato, già quelli che non hanno pagato devono corrispondere quanto è dovuto allo Stato, altrimenti lo Stato si ferma, non funziona.